Signora, scusi, oggi è il 4 o il 5? Oggi è il 6 di aprile Eh, grazie Si tolga, scusi Oggi non vengo, sono malato Allora mi licenzio Ma riportacci tu Il 6 aprile Amore, non è come sembra Non è come sembra Non è come sembra Ma togliete la mente le comande Io vorrei andare immediatamente dai giudici Per contrastare queste accuse E per ottenere una rapida archiviazione Deve essere condannato Non c'è stata nessuna induzione alla prostituzione Nenche meno di minorenni Sui giornali, televisioni in aula Farò vergognare i miei accusatori Oh, inizia, inizia, inizia Io sono l'uomo più imputato dell'universo e della storia L'imputato Silvio Berlusconi Non è presente in aula Dai Entra in aula Non è presente in aula